Per il potenziamento agricolo delle fertili terre dell'impero, una lunga fila delle nuove trattrici, nuovi arati quadrivomeri e seminatrici meccaniche ci appaiono schierate sugli sterminati campi di Fadis nell'Ararino per iniziare lo sfruttamento agricolo di questa concessione della società agraria Simba. Il governatore su eccellenza nasi, accompagnato dalle autorità locali e dai consoli d'Inghilterra e di Francia, spettatori ammirati, ha passato in rivista alle moto aratrici, pronte a tracciare il primo solco su questa terra benedetta, che aspettava solo le cure intelligenti del colono italiano per rivelare tutta la sua feracità inesauribile. I mezzi meccanici dispiegano tutti gli accorgimenti della tecnica più propredita al servizio del lavoro umano, tra la reverente meraviglia degli indigeni che vedono con gratitudine prossimo un avvenire di nuova e mai vista prosperità per la loro patria. Grazie!